salutate la capolista salutate la capolista ma come Gianluca dopo la vittoria col Venezia non avevi detto tre punti salvezza salutate la capolista salutate la capolista grande vittoria del Milan contro il Lecce 3 a 0 tutto facile tutto magnifico tutto stupendo grande prestazione del Milan di Paolo Fonseca detto ciò prima di parlare della partita vi voglio dire che questo weekend sarò impegnato con il lavoro quindi domani c'è l'Inter può seguire c'è la Juventus farò un unico video in serata tardi perché non potrò guardarle chiaramente prima mi documenterò e poi farò il solito video stessa cosa domenica ve lo dico prima perché se l'Inter dovesse malauguratamente perdere a Udine subito verrete sotto a dire ma come adesso non lo fa il video poi lo dicono a me che sono otto anni che ci metto la faccia sul tubo sono passato per i periodi di stramaccioni mazzarri tutta quella gente là mi venite a dire a me debur mi venite a dire a me il discorso di metterci la faccia e se non ce la metto io chi ce la mette detto ciò parliamo di Milan-Lecce una partita di cui c'è ben poco da dire un Lecce che ha approcciato bene però in cinque minuti subisce tre gol e poi da lì il Milan poteva veramente dilagare e farne anche sette quindi non mi soffermerei più di tanto sulla partita perché c'è veramente poco da dire semplicemente era una partita che il Milan sulla carta doveva vincere non voglio dire semplice perché di facile non c'è niente e quindi una partita vinta agevolmente quindi tanto di cappello e il Milan continua a macinare punti detto ciò vi voglio dire una cosa stasera che voglio fare questo video controcorrente in un momento che non è semplice dire questa cosa perché adesso il Milan è un momento in cui ha vinto il derby ha dato continuità di prestazione stasera vincendo bene contro il Lecce e quindi adesso sto per dire una cosa che è difficile dire in questo momento ma per me per me questo Milan è un fuoco di paglia non so quanto durerà se tanto o poco ma per me è un fuoco di paglia e lo dico apertamente senza timori gli utenti che mi seguono sul canale sanno benissimo che io ogni tanto faccio dei pronostici non è che li faccio sempre ma quelle volte che li faccio spesso e volentieri ci azzecco e a me questa squadra dà l'idea di essere un fuoco di paglia mentre l'Inter si ha perso il derby giocando male tutto quello che volete ma fondamentalmente lo sappiamo che riprenderà la sua marcia perché è la squadra più forte del campionato la Juventus sta giocando male ma si ha la sensazione che da qui in avanti motta può soltanto migliorare la squadra c'è il Napoli di Conte senza coppe che si ha la sensazione che comunque farà un grande campionato perché il Napoli è allenato da un grande allenatore e c'è poco da fare mentre per il Milan almeno per quanto mi riguarda c'è la sensazione di instabilità perché adesso tutti dicono hanno vinto il derby adesso con l'Ecce prima ancora col Venezia tre vittorie consecutive in campionato siamo al primo posto e tutto sembra bello e la gente già si è dimenticata della prestazione ignobile contro il Liverpool in Champions League e prima ancora la sconfitta a Parma dove i due fenomeni quei due fenomeni lì sulla sinistra durante il cooling break si sono allontanati perché si erano offesi che avevano fatto una panchina queste cose non vanno dimenticate soltanto che poi sapete com'è quando arrivano i risultati si tende a dimenticare quando arrivano i risultati si tende a non criticare più la società una società che dall'estate in poi ha palesemente improvvisato a partire dall'allenatore perché prima avevano scelto Lopeteghi anzi prima ancora Pioli lo volevano tenere durante lo scorso campionato poi perse con la Roma in Europa League e l'hanno cacciato poi hanno scelto Lopeteghi i tifosi si sono rivoltati e non lo hanno scelto più sono finiti poi su Fonseca come se poi Fonseca fosse meglio di Lopeteghi insomma già da qui si capisce l'improvvisazione della società questa improvvisazione c'è stata anche sul calciomercato perché dovevi sostituire Giroud ed è arrivato Morata ma non perché Morata fosse il giocatore scelto da Fonseca da prendere a tutti i costi come è stato per esempio Lukaku per Conte hai preso Morata perché era l'occasione sul calciomercato aveva la clausola recessoria di 13 milioni e allora è arrivato Morata ma al posto di Morata ci poteva essere anche Pinco Pallino tanto era l'occasione di mercato quindi io onestamente non vedo questa squadra che possa fare un campionato di vertice certamente è una squadra che punterà ad andare in Champions League ma onestamente io io vedo Inter Juve e Napoli superiori poi potrà fare magari il terzo posto anche anziché il quarto ma sicuramente il Milan non ce lo vedo nelle prime due posizioni poi se mi sbaglierò se questo Milan mi smentirà sarò il primo a venire qui togliermi il cappello e a fare i complimenti al Milan ma io resto nel mio parere una squadra costruita male con un allenatore incapace perché quello lì è un incapace dove è andato andato non ha mai vinto niente gli unici trofei che ha vinto è stato allo Shakhtar dove vinco anche se vado ad allenare io perché in Ucraina esiste lo Shakhtar e poi il nulla di conseguenza chi allena lo Shakhtar vince qualcosa quindi io onestamente sì ha giocato bene il derby ha giocato bene stasera ma non vanno dimenticate le prestazioni penose del passato no quelle del Parma con il Liverpool eccetera eccetera quindi questo è il mio parere già so che andando controcorrente mi attirerò le critiche le antipatie dei milanisti però io ai milanisti vorrei ricordare che sono stesso loro che prima del derby già volevano cacciare Fonseca volevano cacciare tutti i dirigenti prima di Ibraimovic volevano cacciare la società adesso non è che per due vittorie o con la vittoria del derby tutto è passato tutto è finito nell'oblio e nel dimenticatoio non succede così perché poi voi sarete gli stessi che alla prossima sconfitta volete far fuori l'allenatore giocatori dirigenti eccetera eccetera bisogna avere un po di equilibrio e io adesso in questo momento che è difficile dirlo vi dico che il milan è un fuoco di paia e sono pronto a sottoscriverlo su qualsiasi foglio nero su bianco ma non c'è bisogno perché per me parlano sempre i video certo non ho la sfera di cristallo non ho la palla di vetro no per vedere il futuro ma io sono abbastanza sicuro che questo milan cadrà poi si rialzerà cadrà si rialzerà farà un campionato di saliscendi che lo porterà a fare il quarto quinto posto massimo il terzo posto detto ciò un saluto a tutti da gianluca castellano lasciate un like al video un commento se lo ritenete opportuno e iscrizione al canale vi ricordo appuntamento a domani sera sul tardi farò un unico video perché si lavora sapete che nella mia vita ultimamente sono cambiate delle cose sempre in meglio in positivo è arrivata una bambina ho cambiato lavoro mentre prima gli orari me li facevo io adesso cambiando lavoro non è più così e quindi di tanto in tanto capiterà che non posso seguire qualche partita ma poi andrò a recuperare tutto per poi fare il video un saluto a tutti e alla prossima ciao